Ci ha dormito sopra una notte, qual è la sua sensazione alla luce dei risultati delle elezioni? Adesso inizia un'altra storia, un'altra sfida che ci porterà il 9 di giugno. La rimonta è iniziata grazie alla fiducia che tanti elettori di Verbania ci hanno dato, con il supporto delle liste che hanno ottenuto, soprattutto con le civiche, un buon risultato. Per questo proseguiremo girando la città, parlando con tutti i cittadini per favorire la sintonia rispetto alle cose da fare per la città. Un po' sono state realizzate, dobbiamo continuare in questa direzione, mandandone messaggi di fiducia sul futuro, sulle possibilità della città di Verbania. Noi ci crediamo, è uno sforzo che accomuna tante persone e quindi si riparte 0 a 0, conterà chi va a votare quel giorno e il nostro invito è quello di partecipare e scegliere la Verbania che non si ferma, che realizza le opere pubbliche, che è a favore dell'imprenditoria per creare il nuovo lavoro, che è la richiesta numero uno da parte dei cittadini. Ci sono stati contatti per apparentamenti, ci sono trattative in corso? Credo che il migliore apparentamento sia quello con i cittadini. Dopodiché mi sembra naturale parlare con candidati, con persone che hanno votato altre liste, sicuramente quella più a sinistra e quella che per valori sociali, popolari e laboristi sentiamo vicina. Credo che non faremo nessuno apparentemente ufficiale, ma andremo nella direzione di cercare, soprattutto coloro che non si sono recati alle urne settimana scorsa. Come vivrà queste due settimane? Con grande intensità, con la consapevolezza di aver cercato di far riprendere la città di Verbania e i fatti parlano in questo senso, non promesse mirabolanti, ma la possibilità di continuare con un'amministrazione sobria e anche con un po' di umiltà. Sempre molta attenzione è stata dedicata alle liste civiche. Continueremo con questa proposta di governo per la città, senza particolari colori politici, proprio per risolvere i problemi che hanno i cittadini e con il senso di ascolto che è necessario per un'amministrazione pubblica.